Sono passati quasi due anni dal riconoscimento di Langhe, Roero e Monferrato a patrimonio dell'umanità. Fu il vertice dell'UNESCO riunitosi in Qatar a riconoscere l'eccezionale valore universale dei paesaggi vitivinicoli piemontesi. Nella motivazione si leggeva che erano e sono una eccezionale testimonianza vivente della tradizione storica della coltivazione della vite, dei processi di vinificazione, di un contesto sociale, rurale e di un tessuto economico basati sulla cultura del vino. Un riconoscimento immenso che ha premiato i vignerondi colline uniche al mondo, così come le aziende produttrici e gli operatori turistici del territorio. Questa fetta d'Italia ha visto apprezzamenti da più parti, con un boom di appassionati provenienti non solo da Europa e Stati Uniti ma anche dall'Australia. Oltre alla ricchezza dei vigneti è stato possibile scoprire le cantine storiche di questo territorio baciato dal sole, così come la sua architettura rurale e paesaggistica. E proprio per tutelare maggiormente questo patrimonio, la regione Piemonte ha imposto misure più rigide nell'edilizia, che prevedono un adeguamento dei piani regolatori e l'obbligo di sottoporre, al parere delle commissioni del paesaggio, tutti gli interventi di nuova costruzione e di modifiche esterne ai fabbricati pubblici e privati. Direttive necessarie se si vuole preservare un'area molto vasta, che va semplicemente coordinata al meglio. Sono in tutto 91 i comuni piemontesi dei paesaggi UNESCO che dovranno organizzare i propri uffici tecnici per elaborare un piano di lavoro snello e mirato alla conservazione di un patrimonio dal valore inestimabile.